Questo è un giorno normale, non vi aspettate la griscia, la matriciana, lo spaghetto della mungola, è un giorno normale, quindi tornato dalla palestra, ancora con il pantaloncino, devo mangiare qualcosa che mi soddisfa, quindi carboidrati, proteine, un po' di fibre, tutto ci deve stare, aspetta che mi si brucia l'olio, e quindi aglio intero così, questo, poi, io ho bisogno di un po' di tutto, con un pasto solo, con un piatto solo, quindi, metto pure, mamma mia come va forte questo, abbassiamo, mettiamo, allora quindi, tonno facile della scatoletta, ma tonno guardate come, quello è naturale, una schifezza, una schifezza, una schifezza, però dobbiamo fare una cosa da, che è poco saporita, poco gustosa, dobbiamo rendere la buona, zitta Roma, buona, che vuoi, che è successo? Senti, poi, peperone verde, pure lei se la menta, del tonno, peperone verde, mi è rimasto, vedete quanto sono moschetti questi? Mi sono rimasti dentro al frigorifero, ok, questo, quindi faccio un po' un miscuglio di tutto e un po', tanto quello con uno strozzo è in grassa, vado così, va bene qua, vai, poi, faccio andare, levo subito l'aglio, che ha fatto il suo lavoro, ah, la pasta integrale, peperoncino, sempre, così diamo un po' di sapore, di gusto, a questa robetta, poi, mettiamo prima i ceci, belli, liberi, vedi, vai, la pasta l'ho messa proprio poca, ho messo, sono 30 e 20 di pasta, ma non so se chi per me, è da dire che per in due, quindi, unetto e 10, un po' più grosso, unetto e 20 per me, 6, e 7, poi, ritorno all'ultimo, ci metto, pomodoro, ah, stavoletto oggi l'ha funzionato, eccoci qua, buono, 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 e dopo qua, poco poco, così, gatterini, buonissimi, io mi amico, fatti, vai, così, così, eccoli qua, veloce, ah, bello, ci metto i quanti colori così, poi, allora, il tonno verso la tela, non ci provare a metterlo prima, levo un po' la salsa, addio, allora, qualcosa, di profumato, io oggi ho pochissimo, ho sto rosmarino congelato, dal frigo, dal freezer anzi, metto questo, qui c'è ci sta bene, col tonno un po' meno, però, andiamo avanti, vediamo un po' di odore, e di profumi, quindi, durante la settimana, dobbiamo fare i bravi, ok? Poi, sabato, venerdì, domenica, zotto, su, ci massacriamo, allora, vediamo la pasta, a che punto sta, ci siamo, quasi, vedete? Beh, vediamo qua insieme, c'è leggermente un po' di bianco, guarda bene bene bene, quindi, io che faccio adesso? La metto qua dentro, vai, vado, così la finiamo di cuocere qua dentro, vedete che bella scura? quindi, pasta integrale, ci sono più fibre, e fa meglio, dai, non rinunciamo alla pasta, però vedete, un piatto unico, veloce, che ci possiamo mangiare, tornati dalla palestra, dal lavoro, e sarebbe meglio farla a pranzo, che alla cena, eh, io mangio sempre la pasta di palestra a pranzo, oh, andiamo avanti, allora, maestro, maestro, andiamo al massimo, andiamo al massimo, levo rosmarino, che non mi piace più, basta, aggiungo gli occhi ceci, è un peccato solo lasciarli, e a questo punto, metto il tonno, naturale, eh, tonno al naturale, tonno al naturale, che l'olio buono ce lo mettiamo noi, oh, nemmeno è brutta come pasta, eh, mi sembra, mi convince già dall'aspetto, vediamo un po', quale potrebbero essere le varianti? Prezzemolo, sicuramente, se ce l'avete meglio il prezzemolo, il basilico, poi, formaggio, parmigiano, no, un pecorino, mi raccomando, eccoci qua, e ora proviamo un attimo a sentire, com'è, bella al dente, questa la rigiriamo subito, bella condita, spengo tutto, mmm, c'ho una fame, non potete capire, ma poi sapete che ora è, è il mezzogiorno, ma già c'ho fame, io, io già c'ho fame, oddio, mmm, buona, buona, ci ho messo un po' tutto, quel c'è dentro casa, è buonissima, 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 rifatela, durante la settimana, queste sono le cose che ci dobbiamo fare, mmm, buonissima,